Siamo a Messina e in questi giorni è successa una cosa abbastanza singolare, la Madonnina del Porto, che vedete qua di fronte a noi, siamo a Teatro Vittorio Emanuele, nel piazzale antistante la Madonnina, qui accanto a noi il Jolly Hotel, di fronte al palazzo degli uffici di Samonà, l'architetto Samonà. In questi giorni è successo qualcosa di strano alla Madonnina, la scritta che campeggia sotto il basamento della stele ha perso la I, è caduta la I di Civitatem, la prima I di Civitatem, Vosse Ipsam Civitatem Benedicinos. Sembra che sia caduta a seguito, successivamente, nei giorni successivi al rifiuto da parte della Comunità europea e del Parlamento e del Senato italiano di inviare gli aiuti a Messina che dovevano servire per ricostruire i paesi alluvionati, che ancora aspettano questi soldi. Strano, veramente, è caduta la I, nello stretto, nel porto di Messina, è caduta una I gigantesca, una grande due metri, un segnale divino, un segnale di civiltà? Non lo sappiamo. Qualcuno prima o poi ci dirà se questa I significa qualcosa o non significa niente.